Il team di Solovela è stato in Sardegna, ospite da Marina Cara De Sardi, per girare le lezioni di Eonavigo del 2018. Tre lezioni che parlano dell'ormeggio di un catamarano, della manutenzione di una barca a vela e dell'ormeggio di una barca a vela, sia in asse drive che in linea d'asse. I video saranno pubblicati tra qualche giorno sul canale YouTube di SolovelaNet, per vederle in anteprima iscrivetevi al nostro canale.